Musica Musica Benvenuti a un nuovo appuntamento con il Il bianco e il rosso TV Sport, un buon pomeriggio da parte di Cristian Siciliani. Bari in ritiro a Borno, ma è sempre il mercato a tenere banco. In casa bianco-rossa sono ore decisive per il passaggio di Andrea Masiello al Siena, ma tra domani e dopodomani arriverà a Bari, come anticipato ieri, il paraguaiano Rivaldo. Ne parleremo con voi allo 080 501 9998 e con il mio ospite, il giornalista, ma anche il conduttore del TV Sport Ultimo Minuto, Davide Lattanzi. Buon pomeriggio Davide. Buon pomeriggio Cristian, buon pomeriggio a tutti. Abbiamo subito un'ascoltatonellina, dunque prendiamo subito la prima telefonata. Pronto? Cristian, Daniele. Ciao Daniele. Io lo sto ascoltando, non mi sto avverendo, ho preso la linea anche per fortuna. Quindi ti dico che oggi Davide Lattanzi ha maniche corte, quindi questo è una novità. Va bene, senti, secondo voi, vedendo le immagini del ritiro di Borno, i due campioni, Kutuzov e Castillo, che stanno tutti insieme, io le interpreto così con l'immagine, si sentono o esclusi, oppure si sentono proprio loro autoesclusi. Cioè, voi come le interpretate con l'immagine, con la scena? Grazie. Grazie, grazie Daniele. Beh, bisogna dire che Kutuzov e Castillo non rientrano nei piani tecnici del Bari e di Torrente. Peraltro Castillo sta anche lavorando a parte, non in perfette condizioni fisiche. che molto probabilmente Davide non faranno parte della nuova ruosa che parteciperà al campionato di Serie B. Ma lo spero vivamente, perché veramente Kutuzov qua non se ne è presentato uno, ma erano tre o quattro probabilmente. Condizioni pietose, se ora magari appare in... è anche difficile poi beccarlo a... Una cosa è che se appare si vede, insomma, veramente è incredibile. Al di là di tutto io capisco gli infortuni e le cose, però uno non si può ridurre con 10 kg in più di quelli che deve avere. Castillo dall'anno scorso che ha problemi importanti al tendine rotuleo, è difficile un giocatore di 36 anni si riprenda velocemente. Peraltro quest'anno c'è anche un problema di iscrizione, perché si possono iscrivere solamente 19 o aver 21, quindi iscrivere uno o tutti e due toglierebbe comunque spazio ad altri giocatori. Io credo che si cercherà di trovare loro una sistemazione, se si riesce, altrimenti probabilmente finiranno un po' ai margini del progetto. Vedremo anche come li valuterà Torrente in ritiro, se riesce a fare un miracolo, ma non credo. Io spero che Ventura se la porti Kutuzov a Torino, magari, no? Magari, però la vedo davvero difficile, anche per voi, peraltro, sia Castillo che Kutuzov fanno ingaggi davvero alti per la categoria. Sì, Kutuzov 480 mila euro, Castillo quasi 700, insomma, sì, sono ingaggi nettamente importanti. 080 501 9998 il numero per intervenire in diretta. Davide, parliamo subito di calciomercato. Sono ore importanti, soprattutto per l'accessione di Andrea Masiello, conteso da Siena e Atalanta. Che punto siamo? Ma è una situazione abbastanza critica, tutto sommato, perché il Siena, pare, non voglia comunque arrivare alle condizioni del Bari. L'Atalanta aveva proposto 2 milioni e 600 mila euro, più il prezzo di Defendi, quindi il Siena dovrebbe aggirarsi almeno su quella cifra, ma pare che ci sia una distanza più o meno importante. Il giocatore ha le stesse condizioni, perché gli hanno proposto cinque anni sia all'Atalanta sia al Siena. Il problema è che la situazione non si sblocca. Oggi è l'ultimo giorno per Andrea Masiello di permesso. Se non sarà ceduto oggi, domani dovrà andare a Borno e anche lui, non so che voglia possa avere di andare in ritiro, perché sa comunque di essere in partenza, quindi a quel punto preferirebbe giustamente raggiungere la sua prossima destinazione. Però mi sembra di capire che non sia facile. Lui preferirebbe forse Siena ancora. Sì, sì, credo di sì, credo che lui preferisca Siena. Però, insomma, ripeto, non mi sembra una situazione così facile. Speriamo che si possano accontentare tutti entro la fine della giornata. Per il Bari sarebbe importante far cassa, perché in entrata c'è molto, molto da lavorare. Pertanto Angelozzi ieri diceva che il Bari ha chiesto 3 milioni di euro, ovviamente trattabili, quindi magari a 2-7 si può chiudere la fase. Sì, a meno che io non riesco a capire perché non entri Mastronunzio nella trattativa. Sarebbe più facile, tutto sommato, concludere. Però il DS del Bari continua a dire che si devono viaggiare su binari separati. Non so quanto sia una tattica redditista. Tra poco ne parliamo, Davide Mastronunzio. Per intanto abbiamo un altro ascoltatore in linea. Pronto? Ciao Cristian, Vito Damola. Ciao Vito. Saluto anche Davide. Ciao Vito. Io non riesco a capire, mi chiedo come si possa dare uno stipendio così alto a un giocatore che può fare al massimo una sede C. Parlo di Castillo. Eh sì, purtroppo. È assurdo, Castillo a giocare in Serie A è già una cosa disastrosa. Poi portassero in Serie B con quello stipendio è proprio a rubare, diciamo, come diciamo noi, dai. Io spero che definiscono per Mastronunzio, spero che rimane un veterano tra Gazzi e Donati. e secondo me se viene il Mastronunzio rimangono gli loro due e con Salvatore Masello si può fare un buon campionato. Anche se purtroppo quando si sentono le dichiarazioni di Angelotti e Gazelli sembrano un po' spauriti come se ci sia qualcosa sotto che non sia abbastanza stabile. Quello che ci preoccupa un po'. Grazie, grazie, grazie per il tuo intervento. Beh, di sicuro la situazione finanziaria del Bari non è semplicissima. Se non dovessero arrivare a Quirenti il prossimo anno il Bari potrebbe davvero andare incontro a grosse difficoltà, soprattutto se non dovesse poi centrare la promozione in Serie A, no Davide? Sì, io ho la stessa impressione perché effettivamente sia Angelotti che Gazelli vanno avanti a vista, però è chiaro che la società non è di loro proprietà, quindi si rendono conto di essere in una situazione effettivamente non molto stabile o che comunque si deve chiarire. Io continuo a sostenere che secondo me la situazione del Bari si risolve solo con un passaggio di proprietà, perché è chiaro che la famiglia Matarese è giunta irrimediabilmente alla fine di un ciclo, non si può tornare indietro, perciò a questo punto si può solo sperare in qualcuno che rilevi il club, però mi sembra di capire che ci voglia del tempo, che comunque in questa situazione economica non sia facile. Anche se magari questo silenzio può essere ben augurante, nessuno si fa pubblicità, magari si sta lavorando sotto traccia, però ovviamente tutto... Speriamo, però il problema è che io credo che il Bari abbia ancora parecchia zavorra riguardo debiti e cose del genere, quindi non la vedo facilissima a breve termine. Poi molto spesso sono anche i risultati, cioè io credo che alla fine se il Bari dovesse fare comunque cassa per quello che si era imposto, quindi una decina di milioni di euro, e partire bene in campionato magari si riesce anche a corroborare qualche interesse. Viceversa, se il Bari dovesse partire male, sarebbe molto più complicato poi. Abbiamo un altro ascolto di Tonelina, pronto? Ciao Mimmo, saluto Davide. Ciao Mimmo. Ciao Cristian, niente, io volevo fare una considerazione. Le prime dichiarazioni di Torrente sono estremamente positive. Certo, certo, tra poco rascolteremo. Il puntare i piedi e prendersi la responsabilità di acquistare giocatori tipo questo Rivaldo che è uno svincolato e quindi altri giocatori come l'ultimo difensore, sia molto positivo. Mi ricordo il primo Conte, appena Conte venne a Bari dimostrò subito la personalità, sapeva quello che voleva, quindi questo è positivo. Poi volevo sapere cosa ne pensate voi, leggevo oggi sul quotidiano sportivo un po' la lista degli svincolati, gli occhi mi si sono illuminati sul nome Daniele Devezze, non pensate sia insomma il caso di farlo venire qui, conosce la piazza, è un buonissimo giocatore, a centrocampo ci servono uomini, ha già una promozione con noi, io credo che il giocatore verrebbe volentieri se gli si fa una proposta recente. Grazie, grazie per il tuo intervento, personalmente a me è un giocatore che Devezze non fa impazzire però obiettivamente in Serie B ha anche fatto bene con Antonio Conte, Davide? No, non è un giocatore che magari fa la differenza, però in effetti in Serie B ci può stare peraltro in un centrocampo a tre può giocare in varie posizioni, è un giocatore molto generoso che ha corsa, che ha anche una discreta qualità, tutto sommato non è proprio l'ultimo arrivato però io escludo che possa arrivare Devezze a Bari per un motivo, cioè che l'anno scorso Devezze non è stato trattato benissimo dal Bari, era stato messo fuori rosa finché poi non ha trovato sistemazione appunto a Torino, non so i suoi rapporti anche con Angelozzi in che termini possano essere, insomma non credo che sia un'operazione facile, però è anche vero che il Bari ha bisogno a centrocampo di molta iniezione e se non si trovasse di meglio un parametro zero come Devezze potrebbe anche far comodo. Anche Devezze viaggiava su cifre importanti, no Davide? Sì, sì, insomma prendeva circa 350 mila euro, forse in Serie A prendeva anche qualcosa di più però io immagino che essendo svincolato si possa anche fare un contratto a cifre inferiori però ripeto io credo che i rapporti col giocatore non si siano chiusi molto bene. Dobbiamo fermarci un attimo, pubblicità a tra poco con la seconda parte del Bianco e Rosso TV Sport.